dopo i panzi e le cene pantagruelici è arrivato il momento di smaltire panettoni e pandori delle feste appena passate ciao come vi dicevo tra i buoni propositi quest'anno ci sarà una maggioranza di video dal friuli e cominciamo con questa camminata ad anello a cavasso nuovo questa è anche la scusa per provare una nuova app che è kumut spero di averla pronunciata giusta con cui ho tracciato il trekking stando all'app sono circa sette chilometri con circa 250 metri di dislivello positivo nel video ovviamente avrete come al solito anche la traccia dire live così vedete anche quanto ci ho messo la partenza è dalla piazza del municipio che vedete qui alle mie spalle per chi non lo sa dentro al municipio c'è anche il museo dell'emigrazione del quale vi lascio qualche clip che ho registrato con anche gli orari di apertura e adesso basta parlare iniziamo a muovere le gambe prima tappa è la borgata petrucco e quella che vedete dietro di me è la chiesetta di san pietro che risale al dodicesimo secolo io peraltro come vi dicevo sempre tra i buoni propositi sto girando con un sacchettino per raccogliere appunto le schifezze che vengono abbandonate e lo sto già cominciando a riempire per cui direi che oltre a fare del bene i miei polmoni faccio anche del bene all'ambiente proseguiamo sono quasi alla fine della salita quindi quasi alla cima del monte lieto adesso mi sono seduta a riprendere fiato perché letteralmente mi ha ucciso questo tratto di salita peraltro è l'unico praticamente tratto in salita ed è piuttosto ripida quindi ho quasi esaurito il mio dislivello totale per quanto riguarda la camminata però sono letteralmente morta approfitto di questa pausa in cui non sto respirando con il fiatone per dirvi che il monte lieto prende il suo nome dal friulano modolet che significa letteralmente bosco di cerri qui in realtà per quello che ho visto io la maggior parte sono castagni ci sono ancora parecchi ricci in giro e se devo darvi un consiglio soprattutto per questa parte qui poi per il resto vi farò sapere fate in modo di avere una buona traccia gps anche piuttosto dettagliata perché con il fatto di farla d'inverno quindi a gennaio tutte le foglie sono a terra e il sentiero non è così facile da seguire quindi buona traccia gps assolutamente necessaria o nel caso un'ottima capacità di orientamento con una cartina peraltro preparatevi anche a scavalcare o a passare sotto a qualche albero che è stato tirato giù probabilmente dal vento e che non è stato ancora sistemato per liberare il sentiero presumo lo faranno prima o poi però ce n'è un paio che dovrete appunto superare in qualche modo ho appena superato la cima del monte e il sentiero è decisamente migliorato è più evidente e anche un pochino più pulito nel senso che perlomeno non ho bisogno della traccia gps adesso comincerò un pochino a scendere ma per poi risalire leggermente fare un bel tratto in cresta in teoria quindi spero di riuscire ad avere qualche bella possibilità fotografica il sentiero mi sembra utilizzato non solo dagli umani ma anche da qualche animale perché ho visto tracce del passaggio dei cinghiali non ho mai avuto in vita mia il piacere di incontrarli di fare di avere un incontro ravvicinato con loro fortunatamente in compenso qui in lontananza ho visto allontanarsi appunto almeno un paio di caprioli la presenza degli animali è testimoniata anche dai capanni di caccia che ci sono appunto e in teoria in zona dovrebbero esserci anche altri vecchi ricoveri di magari qualche taglialegna ma anche dei resti di tralicci che venivano di teleferiche che servivano per il trasporto del legname queste sono le informazioni che ho recuperato però al momento non le ho ancora incorrociate per cui non è nemmeno detto che io sia in grado di riconoscerle in realtà quindi vediamo di non fare di non volare e direi che ci sentiamo tra poco quello qua dietro dovrebbe essere in grado di riconoscerlo in grado di riconoscerlo in grado di essere l'ultima pezzettino di salita e sembra non troppo pendente però fidatevi che è bella tosta vi direi assolutamente vietatissime le scarpe della ginnastica e fidatevi di una che le ha usate parecchio le scarpe della ginnastica in montagna per cui occhio quello di prima a quanto pare non era l'ultimo pezzo di salita perché è questo l'ultimo pezzo di salita e devo andare non so se si intravede ma quassù dove c'è una bandiera della pace che sventola e niente non me ne va bene una perché quella che mi sembrava una bandiera della pace in realtà è una bandiera che non conosco peraltro sta continuando a sventolare ve la faccio vedere se la riconoscete fatemi sapere a quale stato appartiene questa bandiera qui sono su un punto panoramico ho approfittato per mangiarmi una barretta che decisamente ci voleva vista visto l'ultimo soprattutto l'ultimo pezzettino di salita fatto quasi a quattro zampe adesso si riscende probabilmente si risalirà perché ovviamente la finita non è mai salita perché ovviamente la salita non è mai finita e dovrei arrivare a quello che è il castello Mizza questo qui è semplicemente un punto panoramico allora mi sono spostata di poco e appunto dove c'è la bandiera del friuli ci sono appunto i resti del castello di Mizza che se non sapessi che ci sono non mi sarei accorta che c'erano nel senso che ci sono quattro sassi e basta più la bandiera e appunto il castello è stata dimora dei signori di Polceni Gofanna fino al XVI secolo più o meno la posizione è strategica vi farò partire un tipo 360 gradi si vede abbastanza bene anche dall'altra parte del Meduna nonostante appunto un po' di vegetazione dopo aver abbandonato questa postazione qui hanno costruito quello che adesso è sede del municipio ovvero quello che viene denominato Palazzat e adesso si scende sperando di non ammazzarmi sono tornata alla civiltà dietro di me vedete qualche casa e anche il panorama che si vedrebbe se non ci fossero gli alberi dalla cima appunto qui siamo a località Grilli se non spero di non sbagliarmi e adesso proseguiamo verso appunto località Vescovi ammetto di aver imbrogliato perché ho tagliato nel senso verso appunto la strada asfaltata invece che verso il bosco perché il bosco era impraticabile andando verso località Vescovi quindi l'ho saltata la vedo da qui però appunto non ci sono passata una volta che avete preso l'asfalto è praticamente un susseguirsi di borghi uno dietro l'altro quindi in maniera continua che è decisamente poco interessante a livello paesaggistico quando sarete più o meno quasi tornati al parcheggio davanti al municipio c'è la chiesa di San Remigio che non so se eccola qua vedete un pezzettino di qua e c'è una piccola deviazione che sto facendo che ho preso io che mi porta alla sorgente solforosa di Recoaro in teoria non è potabile l'acqua ma da quello che so io è solo e soltanto perché non vengono fatte le analisi nel mio caso non andrò a rischiare anche perché io domani lavoro quindi non è il caso di avere problemi di stomaco ma potrebbe essere interessante c'è comunque dietro di me vedete il sentiero abbastanza per il momento bello largo potrebbe essere comunque una escursione decisamente più facile rispetto a quello che ho fatto io da fare appunto se non siete decisamente allenati rispetto a quello che ho fatto io il sole davanti a me sta tramontando voi ovviamente non lo vedete io sto rientrando sono gli ultimi metri prima di arrivare appunto all'auto decisamente interessante quella che è stata questa escursione avrei voluto morire la prima mezz'ora dove appunto c'era tutto il dislivello praticamente però diciamo che fortunatamente non ho desistito e decisamente ne è valsa la pena come vi dicevo rigorosamente munitevi di traccia di traccia gps su una qualche app io appunto per questa volta ho provato comut e devo dire che mi sono trovata bene per cui qua sotto in descrizione vi lascio appunto il link alla traccia appunto su comut fatemi sapere se la vedete perché appunto è la prima volta che condivido un link di questo tipo appunto da quest'app che funziona anche da desktop rigorosamente da fare con scarponi come vi dicevo non è decisamente semplice volendo ci sono altre alternative tipo la decisamente più fattibile passeggiatina che porta dalla piazza del municipio al borgo runcis che purtroppo non si vedeva perché è molto scenografico né perché è proprio disposto a mezz'aluno per quanto riguarda la raccolta questo qui è il mio bottino non ho trovato tante cose diciamo per fortuna perché appunto è tenuto abbastanza bene il tutto la parte di bosco un pochino meno la parte appunto vicino alle strade asfaltate e direi che approfitterò del cestino che c'è quei fuori dal municipio io adesso torno in macchina spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like e commentate se passerete da qui vi raccomando una visita al museo dell'emigrazione se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video che caricherò e riceverete una notifica appunto ogni volta che li carico qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure io come al solito vi saluto con have a nice life grazie